Inter-Verona, partita di Serie A di ieri, 14 gennaio 2023, è terminata 1-0 per l'Inter. Inter vince direttamente contro il Verona, che rimane a 0-3. A segnare gli all per l'Inter è stato Lavoro Martinez, in salve di ritorno si è verificato nei primi minuti di gioco, non vi dico in quale minuto esattamente parlando, però effettivamente è avvento, dopo qualche minuto dal fischio, l'inizio del relativo arbitro di chiaccio. Una bellissima rete, che ovviamente entrerà, come è entrata nella storia del chiaccio che è giocato, è ben impaginato a un mondo chiacciistico, il Verona resta lì a guardare chi subisce la rete in questione, nonostante un impegno maggiore nel secondo tempo, a mio avviso, rispetto a chi nel primo tempo. Beh, vi ringrazio per l'ascolto, copriete un po' la vita che ha vinto in maniera grintosa, anche a pari di diretta, specifica contro il Verona, che clamorosamente perde la partita di ieri, 14 gennaio 2022. Da narratore italiano di Youtube Italia e tutto, ciao a tutti e una buona giornata.